Marco Paolo ha portato in Italia la polvere da sparo? Non risulta. Marco Paolo non parla mai della polvere da sparo nel Milione. Non è chiaro da dove sia nata questa idea. Nel Milione si parla in un'occasione di alcune canne di bambù che scoppiettano in maniera molto rumorosa e che vengono utilizzate per tenere lontani gli animali feroci quando i viandanti si accampano durante la notte. In un altro passo invece si parla dell'assedio di una città avvenuto con le catapulte ma di armi da fuoco non si parla mai però in uno dei codici veneziani che tramandano il Milione si trova la notizia di queste catapulte che vengono identificate con il termine bombarde un termine che indica sia l'arma da fuoco che l'arma da lancio quindi probabilmente a partire dall'associazione con uno di questi due passi che è nata questa falsa notizia.